La sanità della Regione Marche sta cambiando per ridurre i tempi di attesa e offrire la migliore assistenza ai pazienti che hanno bisogno di cure complesse e continue. Grazie alla procedura della presa in carico, oggi la sanità marchigiana solleva i pazienti cronici da ogni difficoltà burocratica, garantendo loro un percorso di cura certo e pianificato. Sarà infatti il medico specialista a programmare e prenotare gli esami, le visite, i controlli e tutte le cure necessarie, secondo un profilo di cura personalizzato. Grazie a tutti